Musica Palla al portiere Redivo Isanto In mezzo, attenzione, gol! Il vantaggio di Rosselli Il vantaggio di Rosselli Fosse pallavolo sarebbe una veloce Prado sotto per 1-0 Rilancio del portiere, Bebetigno, attenzione Vince un contrasto, Isanto gol Eccolo qua, il 2-0 Il 2-0 che ammazza la partita Bebetigno 16-40 A Pruzzese, Calanna Gli sfila via il pallone, Isanto Attenzione perché questa è buona, è buona Eccola lì, gol, 3-0 3-0, Isanto chiude la partita 18-40 Grazie a tutti.